Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. In questo video parlo di Serie C, infatti ieri sera c'è stato il posticipo della 17esima giornata nel Gironi C, una partita che mi interessava molto tra il Pescara ed il Taranto. Ha vinto il Taranto per 2-0, una grande vittoria per gli uomini di Ezio Lino Capuano che ottengono un successo in trasferta fondamentale per questo momento della stagione della squadra pugliese e soprattutto ottengono 4 punti contro la seconda e la terza della classe perché il Taranto era riduce anche dal pareggio contro il Cortone. Viceversa per il Pescara è la terza sconfitta consecutiva in 10 giorni e ho trovato una squadra veramente lontana parente da quella che avevamo ammirato in inizio stagione soprattutto per esempio nella grande partita giocata, nella grande vittoria sul campo del Foggia. Un Pescara al quale probabilmente a livello mentale non è andata giù, non è stata ancora superata e ben assorbita la sconfitta netta casalinga contro il Catanzaro che di fatto ha un po' messo il Pescara in una stranissima situazione di classifica perché dopo 17 giornate gli uomini di Colombo sono terzi con 35 punti, sono a 12 punti di ritardo da questa locomotiva vaporiera Catanzaro ma hanno 14 punti di vantaggio su una zona playoff. Manca tantissimo ovviamente, manca un intero girone sostanzialmente alla fine del campionato e nel calcio tutto può succedere, quindi tirare già il remi in barca o preparare i playoff cosa che mi sembra folle, assurda e naturalmente non questo è il caso. Però c'è qualcosa di strano in un Pescara che al di là di tutto mi ha veramente poco impressionato per la lentezza assoluta della manovra, una gara nella quale il Taranto si è presentato molto ordinato, molto organizzato dietro, probabilmente il punto era l'obiettivo per la scuola di Capuano però se si eccettuano i primi minuti di gara nel quale il Pescara ha avuto sostanzialmente però due occasioni e non frutto di una reale pressione ma solo un lancio lungo dietro del portiere con un contatto a due in area a sandwich su credo Cupone sul quale l'arbitro Kumara non ha ravvisato gli estremi nel calcio di rigore e poi un'altra scena per Cupone, sempre però sul lancio lungo, sempre però in azioni in velocità. Quando il Taranto si schierava invece il Pescara procedeva con un ritmo di gioco molto lento eppure il Pescara è una squadra che credo abbia a livello di centrocampo sia uno dei reparti migliori della categoria, giocatori chi mi segue sul canale sa quanto mi piace a Palmiero ma anche Craia, Loi sono giocatori sicuramente di esperienza, di qualità e invece in questo caso nessuno giocatore davanti si muoveva, creava spazi e in mezzo al campo la palla procedeva veramente con una lentezza assoluta. Il Taranto un po' alla volta ha preso coraggio e nella seconda metà del primo tempo ha trovato anche le due reti. Questa è una classica partita molto bloccata nella quale probabilmente le palle ferme avrebbero potuto essere un'opportunità da sfruttare. il Pescara non ha costruito neanche una chance, non è riuscita neanche a guadagnarsi i calci di punizione e viceversa invece il Taranto su una brutta palla persa a centrocampo si è costruito una punizione vicino ai limiti dell'area per un fallo di Aloy che è stato anche ammonito e la punizione è stata battuta molto bene con schema tipo calcio britannico un passaggio sulla parte sinistra dell'attacco del Taranto un colpo di testa dell'eccellente Antonini che ha rimesso la palla al centro dell'area dove su Manetta era saltata la marcatura. Questo perché all'inizio dell'azione c'è un piccolo contatto Manetta-Palmiero, Palmiero cade sinceramente non credo sia fallo però questo sbilancia completamente la retroguarda del Pescara e Manetta si trova completamente libero nell'area piccola mettere la palla in rete non c'è di fatto una reazione da parte del Pescara e il Taranto trova uno stupendo raddoppio in chiusura di tempo nei minuti di recupero credo sia Ferrara a fare un cross di prima perfetto mette la palla sulla testa di Tomassini che è bravissimo ad approfittare della lentezza del centrale rimasto del Pescara e di crescenza in ritardo nella chiusura indeciso anche Pizzari e la palla va in rete per il 2-0 tre cambi per mister Colombo nella ripresa che però non sortiscono nessun effetto il Pescara di fatto non riesce mai a rendersi pericoloso nel complesso della partita il portiere Vannucchi di fatto effettuerà soltanto una parata su un tiro da fuori a rapenso di Milani per di più il Pescara trova una serata di quelle totalmente negative perché trova anche un doppio cartellino giallo che il protagonista arbitro Kumara che nel secondo tempo riscopre di avere i cartellini e ammonisce chiunque per qualsiasi tipo di fallo dopo che anche nel primo tempo poteva esserci un rigore anche per il Taranto perché c'è una secca spallata sempre di Aloy su credo guida sulla quale l'arbitro decide di non intervenire con un'azione molto simile al rigore non concesso al Pescara in questo la coerenza arbitrale ci è stata valutando in maniera uguale due situazioni simili però Craia viene espulso con un secondo cartellino giallo il Pescara resta in 10, più tardi si fa male anche Palmiere il Pescara chiuderà addirittura la partita in 9 il Taranto ha la chance anche per fare il 3-0, non riesce a chiudere la gara questo fa impazzire un po' l'allenatore Capuano che però credo abbia fatto davvero un capolavoro tattico abbia impostato molto bene la partita e abbia sfruttato questo momento un po' proprio confuso credo mentale da parte del Pescara che davvero mi sembra una squadra così incredibile che nel giro di poco una squadra che giocava così bene sia invece precipitata in un tunnel così brutto questa prestazione di ieri è veramente negativa e lo vedremo anche nelle pagelle di fatto credo di dare la pagella la sufficienza solo a un paio di giocatori del Pescara è mancata la prestazione di squadra, è mancata la prestazione dei singoli ma soprattutto quello che mi ha colpito è la lentezza del gioco e la mancanza quasi di grinta della squadra troppo troppo morbidi e questo non va bene in un momento così importante della stagione viceversa per il Taranto si aprono prospettive comunque interessanti perché in una classifica che all'interno è così accorciata perché se si scludono le squadre già andate via il Catanzaro soprattutto il cortone che gli ho un po' più addosso dal quarto posto in giù c'è tanto invece assembramento il Taranto ora è quindicesimo con 20 punti di fatto è un punto avanti ai play-out ma è a un punto dei play-off quindi una situazione molto fluida nella quale gli uomini di Capuano credo possano fare molto bene squadra che anche come valori individuali guida Antonini su tutti ma anche Mazza è entrato dalla ripresa e mi è piaciuto molto credo sia una squadra che abbia davvero dei valori veniamo alla pagela di questa interessante gara 6 e mezzo il voto alla partita 5 a Plizzeri troppo indeciso 6 a Cancellotti secondo me lì sulla faccia destra è stato uno dei meno peggio della gara 5 e mezzo e due centrali in grosso e brosco troppo lenti soprattutto in occasione di due gol 5 e mezzo a Crescenzi che ha sprecato anche un'occasione poi in contropiede e ha fatto un tiro da fuori anche in una situazione nella quale forse il passaggio sarebbe stato meglio 5 a Palmiero 5 a Craia 5 a Loi giocatori che ho visto giocare molto meglio in passato 4 e mezzo a Lescano 6 a Cupone 5 ad Esogus i subentrati 5 a Dele Monache 5 a Colai e 5 a Vergani non mi è dispiaciuti i pochi minuti giocati da Milani 5 a Mister Colombo per quanto riguarda il Taranto 6 e mezzo a Vannucchi 6 a Evangelisti 7 e mezzo a Antonini bravo davvero 7 a Manetta 6 e mezzo a Formiconi 6 e mezzo a Mastro Monaco 6 e mezzo a Ancarabriola 6 a Provenzano poi sostituito da Mazza 6 e mezzo a Mazza e molto bene poi Ferrara 7 Guida 7 e mezzo e Tomasini 7 con mezzo punto in meno perché il terzo gol il secondo gol personale che si è svegliato era probabilmente fattibile 7 a Mister Capuano 4 e mezzo all'arbitro Humala fatemi sapere ragazzi le vostre impressioni su questa partita sulle prospettive delle due squadre su questo Gironi C sempre molto interessante sempre molto godibile da seguire grazie a tutti un bacio iscrivetevi al canale ciao da Lox e l'appuntamento con la Serie C e alla prossima ciao